La biologia in Puglia è molto importante, rappresenta più del 20% della agricoltura regionale pugliese con produzioni di punta come quella dell'olio di oliva, ortaggi, frutta, grano, cereali è veramente tanto prodotto che per fortuna stiamo imparando a consumare anche qui precedentemente era destinato solo all'esportazione e oggi grazie anche a queste iniziativa che riesce ad arrivare alla portata di tutte le tavole e anche dei cittadini di questa regione.